Un finanziamento di 6 milioni è stato concesso dal governo al comune di Fano, riconoscendo la qualità del progetto di scavo del teatro romano e della realizzazione di un polo museale che dovrebbe sorgere sul sito dell'ex Filanda. Sono risorse che a partire da una somma di 804.333,34 centesimi verranno concesse anno per anno fino al 2029, ma questa volta, dopo un'attesa di 22 anni da quando il teatro romano è tornato alla luce, ci siamo davvero. Ora il comune ha tutti i mezzi per proseguire gli scavi e realizzare l'opera. L'intento è porre allo scoperto, sebbene opportunamente protetta, la cavea, demolendo parte del fabbricato che la include, sondare la superficie che si estende tra la scena e il criptoportico del Tempio retrostante, è realizzare il Museo della Romanità. Questa mattina gli obiettivi sono stati presentati dal sindaco Massimo Seri, dal consigliere comunale delegato Stefano Marcheggiani e dall'assessore alla cultura Cora Fattori. In questa strategia ricordo che noi decidemmo di finanziare inizialmente degli scavi per verificare cos'altro poteva offrire quel sito e le scoperte sono state molto interessanti. Decidemmo di acquistare l'ex Filanda per renderla propria, per poterci fare un progetto di grande valore che diventasse un'attrattività mondiale, non soltanto del territorio. Questa è una notizia veramente importante ma riconosce anche il lavoro che abbiamo fatto perché è uno dei finanziamenti principali a cui si è data attenzione proprio per il valore che esprime. Quale progetto per il nuovo Museo del Teatro Romano? Il CONSE dovrà proprio far convivere la trasmissione dei contenuti della collezione archeologica che abbiamo nell'Antiquarium e che deve essere fatta con tecnologie nuove, suggestive e anche divertenti. Non dimentichiamo che siamo la città delle bambine e dei bambini quindi il messaggio deve arrivare anche ai più piccoli insieme alle vestigia straordinarie di una città che ha segnato la storia con questo grande teatro, un grande criptoportico di un tempio in una zona che è sicuramente quella del Foro Romano. Ci saranno anche ulteriori scavi per mettere in luce l'area? La solintendenza ha già individuato dell'area di scavo quindi parleremo con loro perché da quello che ha già fatto il Comune di Fano ci metteremo a disposizione per agevolare al massimo la ricerca. Per questo, questo museo è importante perché oltre a unire diverse epoche storiche che vanno dall'archeologia industriale recente dell'ex Finlanda fino alla Romanità passando per il Medioevo c'è anche il senso di una ricerca in itinere per cui può essere un museo che non parla solo del passato ma anche della scienza archeologica perché chi potrà venire a visitarlo potrà vedere scavi in corso e quindi unire le esigenze scientifiche dell'università e della solintendenza con quelle dell'amministrazione in un tutt'uno affascinante. Come si procede ora sull'iter progettuale? Allora adesso sarà importantissima il confronto con il provveditorato per proseguire anzitutto con il museo prima del museo. Siamo pronti, aspettiamo il parere della sovrintendenza con cui ci siamo confrontati e quindi arriverà a breve e a seguito di questo parere sarà emesso l'esecutivo e poi saranno assegnati i lavori per partire appunto con il museo prima del museo. Nel frattempo sarà importante in collaborazione con i lavori pubblici proseguire con l'individuazione per la progettazione definitiva del nuovo museo sulla romanità. Dovremmo capire in concentrazione tra i due uffici che taglio darà il museo e quindi anche quale sarà l'estetica e la degli spazi, la concezione proprio museale che ne verrà fuori.